Il cuore racconta la storia, è stato un viaggio davvero fantastico. Il cuore, il carne, il cuore... Penso che è una città molto ricca, ma non in un modo buono, in un modo davvero buono. I ciccioli che venivano fatti nelle campagne da Bologna a dar verso Piacenza. Sì, invece la Romagna fa questi. Emilia Romagna. Il cuore, il cuore. Il cuore. Il cuore. Grazie a tutti. We have markets like this in the UK and London where I live, but nothing quite like the produce that was being wheeled around this morning. Swordfish, massive swordfish, fresh vegetables, fruits.